Direi che la coscienza degli umani, è un fenomeno emergente di un essere più unificato. Ogni persona ha la propria unica coscienza, o consapevolezza. Tuttavia, quando inizi a pensare a quale sia la tua essenza individuale, inizi a renderti conto che non è un'entità senza forma come si pensava in precedenza, ma piuttosto una parte cosciente, di qualcosa di molto più grande e significativo di te. È stato anche scoperto che questo essere superiore, era anche responsabile della creazione di tutta la vita sulla Terra come la conosciamo oggi, inclusi umani, piante, animali, ecc. Questa conoscenza rivela che la nostra coscienza umana, è in realtà un'estensione della coscienza universale, che è essa stessa la vera fonte di tutta la creazione nell'universo. La coscienza universale è sempre esistita da tempo immemorabile, e continuerà ad esistere nell'eternità. Se guardi alla storia dell'umanità, e al modo in cui la coscienza ha modellato lo sviluppo degli umani, sono sempre gli esseri coscienti che hanno creato quei cambiamenti, che sono in accordo con ciò che volevano vedere accadere. La coscienza umana si è sempre evoluta e, mentre lo fa, ciò che abbiamo sempre saputo essere vero e reale, viene messo in discussione. Ci sono momenti nella nostra vita, in cui accade qualcosa che ci porta a mettere in discussione tutto ciò che crediamo sia vero, e come stiamo vivendo le nostre vite. Questo è un momento di grande cambiamento nella coscienza umana. Siamo entrati in una fase in cui le nostre convinzioni su noi stessi, sul mondo che ci circonda, e su come ci relazioniamo con gli altri, stanno cambiando. Quando questi cambiamenti inizieranno ad accadere, ci saranno coloro che resisteranno al cambiamento a causa della loro paura. Coloro che resistono, vedranno questi cambiamenti come una minaccia esistenziale alla loro stessa esistenza. Ma mentre assistete a questa resistenza che ha luogo nella vostra stessa vita, o nelle vite di coloro che vi circondano, ricordate questo. La coscienza umana, è un fenomeno emergente di un essere più unificato. La coscienza si è sempre evoluta nel corso della storia sulla Terra, e continuerà ad evolversi fino a quando verrà il momento in cui tutti gli esseri potranno coesistere senza paura o pregiudizi l'uno verso l'altro. Ancora una volta, il tema del cambiamento è qui, come lo è in tutte le nostre vite. Il ritorno della coscienza umana, avverrà ancora una volta sul sé superiore e sul vostro gruppo di anime, o gruppo spirituale, o comunque lo vogliate descrivere nel suo insieme. Siamo tutti connessi, e siamo una cosa sola in questo universo. Non c'è altro modo per aggirare questo fatto. Siamo tutti connessi, e siamo uno in questo universo. Non possiamo separarci gli uni dagli altri, perché siamo tutti parte dello stesso corpo, il corpo universale, che ci connette al nostro livello più profondo, cioè, l'energia. In momenti come questi, quando le cose sembrano oscure, spaventose e incerte, ricorda che c'è sempre luce ad ogni svolta, che aspetta proprio dietro quell'angolo. Quando la vita si fa dura, non mollare, continua, anche se solo per oggi, perché domani potrebbe portare cose migliori di quelle che sono successe prima. Guardando indietro nel corso della storia, tutte le guerre sono state combattute per guadagni materiali o politici, e questo è avvenuto negli ultimi 6.000, o 7.000 anni. Quindi dobbiamo capire che la coscienza umana è rimasta addormentata a causa del modo in cui i nostri genitori, insegnanti e la società in generale, ci hanno insegnato a pensare e comportarci. E quindi dobbiamo renderci conto che quello che è successo, è che la maggior parte degli esseri umani è diventata più simile alle macchine che agli esseri umani. Quindi, invece di prendere coscienza di noi stessi e capire, chi sono io, e perché sono qui. Siamo appena diventati robot programmati, che seguono qualunque cosa ci viene detto di fare dai nostri genitori, o insegnanti. Tutto questo è molto interessante per voi ragazzi, ma ciò di cui dobbiamo davvero preoccuparci, è che i sistemi di controllo delle forze oscure che ci stanno tenendo giù in questo momento, non saranno in grado di farlo per sempre. Se stai leggendo questo, hai deciso di saperne di più sul ritorno della coscienza umana, e tutte le implicazioni che ha per la società. Questo è fantastico. È un momento eccitante per essere una persona, non è vero? Ci sono alcune cose che possiamo aspettarci, quando gli esseri umani si sveglieranno collettivamente. I sistemi di controllo che sono stati in vigore per secoli, sono progettati per limitare il nostro potere come individui, e diventeranno obsoleti. Il mondo sta cambiando molto più velocemente di quanto questi sistemi possano adattarsi. Le forze oscure sono radicate in vecchi modi di pensare, e sistemi di controllo obsoleti. Non dureranno a lungo in questa nuova era. Come risultato, vedremo molte persone che detengono il potere, e che non vogliono rinunciarvi facilmente. Potremmo sperimentare una certa resistenza da parte delle forze oscure, prima che finalmente cedano sotto la pressione di coloro che si sono risvegliati, che sei tu. Per realizzare pienamente la promessa della coscienza umana, dobbiamo agire ora, in modo che quando torneremo, avremo una società migliore di quella che stiamo attraversando oggi. Dobbiamo essere maggiormente consapevoli delle nostre azioni. C'è una lunga storia di esseri umani che fanno del male ad altri, per perseguire il proprio interesse personale. Questo non si limita a un gruppo o ad una nazione, è accaduto nel corso della storia, e continua ad accadere ancora oggi. Il primo passo verso il cambiamento di questo comportamento, è essere consapevoli di ciò che stai facendo, e di come le tue azioni influiscono sugli altri. Dobbiamo intraprendere azioni per cambiare la nostra coscienza. Ci sono molti modi in cui gli individui e i gruppi, possono influenzare il proprio comportamento, ma tutti richiedono una qualche forma di azione da parte dell'individuo, o del gruppo. Di per sé, questi possono sembrare piccoli atti, ma creano cambiamenti nella mente di ogni persona, e questo cambia anche la società in generale, perché siamo tutti connessi. Ti amiamo teneramente, siamo qui con te, siamo la tua famiglia di luce. A.O., Aurora Ray, ambasciatore della Federazione Galattica, per favore condividi.